La puntata di oggi sulle conversazioni da Torino e di Tonino vertono sulla storia di Vittorio Emanuele II. L'abbiamo voluto chiamare Vittorio Emanuele II dietro le quinte. La presentazione di oggi vuole così provare a utilizzare le testimonianze di allora, la documentazione, i fatti. Ecco, forse mi piace evidenziare i fatti. I fatti che parlano a volte per più di tante cose. L'infanzia, partendo dalla slide dove abbiamo voluto inserire questa immagine di Vittorio Emanuele II, molto molto giovane, passa fondamentalmente attraverso alcuni punti fondamentali. Intanto suo padre. Il padre di Vittorio Emanuele II è Carlo Alberto. Carlo Alberto, questa figura così importante, anch'esso discussa della nostra storia, ha avuto il figlio che è nato, Vittorio Emanuele II, il 14 marzo del 1820, ed è nato nel palazzo di famiglia, Palazzo Carignano, di cui vi ho voluto inserire una bella fotografia. E peraltro alla cima, nella testa di Palazzo Carignano, non a caso, è stato poi messo successivamente una lapide in bronzo che ricorda proprio che in quel palazzo nacque Vittorio Emanuele. Poco dopo, la sua famiglia viene coinvolta, in momenti drammatici, perché suo padre Carlo Alberto, che è solo il principe di Carignano, Carlo Alberto viene coinvolto però nel marzo del 1821 in quelli che ricordiamo come i primi moti liberali, cioè la richiesta da parte di nobili e alta borghesia di fondamentalmente avere una carta costituzionale. Carlo Alberto si fa prima coinvolgere da questi moti, poi, come abbiamo imparato a conoscerlo nella sua vita, ritratta il suo appoggio e conseguentemente i moti liberali non vedono lui partecipe, ma questa ritrattazione non viene accettata da Carlo Felice, che è colui che sostituirà il re che c'era in quel momento e che aveva abdicato Vittorio Emanuele I, non verrà accettata da Carlo Felice, Carlo Alberto sarà costretto a un esilio, verrà di fatto mandato in esilio a Firenze per alcuni anni, fino al 1824. Questo passaggio è importante perché? Perché mentre Carlo Alberto e il piccolo Vittorio sono in esilio a Firenze, insieme alla madre Maria Teresa Asburgo Lorena, a Firenze accade un fatto drammatico che è entrato nella storia. Che cosa accade il 16 settembre del 1821? Un incendio rischia di uccidere il giovane erede. Vittorio Emanuele II ha poco più di due anni e, mentre era nella sua stanza da solo, accudito dalla balia Teresa Zanotti, di cui abbiamo recuperato un'immagine, la Teresa Zanotti, utilizzando un candelabro, non si capisce, non lo saprà mai, probabilmente per allontanare le zanzare, perché si era a settembre e nelle campagne toscane le zanzane ovviamente abbondavano, di fatto dà fuoco alla zanzariera che proteggeva la culla di Vittorio Emanuele II. Nel tentativo di spegnere l'incendio, le fiamme si propagano agli abiti di Teresa Zanotti, che di fatto va letteralmente a fuoco, intervengono altre persone, il fuoco viene domato, ma Teresa Zanotti, dopo circa tre settimane di sofferenze, muore, mentre il bambino fortunatamente sopravvive. Da qui nasce la leggenda. E la leggenda nasce perché? Nasce perché Vittorio Emanuele II, come voi sapete, ha una caratteristica fisica somatica molto particolare. Quello che colpisce è la non somiglianza, o almeno un'apparente non somiglianza, con il padre. Il padre di Vittorio Emanuele era alto 2,04 m, era una figura estremamente distinta, così anche molto particolare lo era la madre Maria Teresa Sburgo Lorena. Vittorio Emanuele II, come noi sappiamo, è un personaggio fisicamente non particolarmente alto, circa 1,58 m, 1,59 m, robusto, comunque fisicamente molto, ma molto diverso da Carlo Alberto. Questa differenza fisica, unita anche a un modo di comportarsi veramente fuori dei canoni, poco di regale e molto di popolare, ha anche una sua particolare attitudine e vicinanza con il popolo, porterà successivamente alla propagazione della voce che in realtà il bambino quella notte era morto, non era sopravvissuto, e che era stato sostituito il giorno stesso, il giorno dopo, dal figlio di un macellaio di nome Tanaka, che abitava nei pressi del poggio imperiale. Questo bimbo è stato quindi sostituito in culla ed è quindi un figlio di macellaio con lui che prosegue la storia d'Italia e questo è quello che raccontiamo. I pro e i contro che ho voluto raccogliere in questa slide. Teresa Zanotti muore a conseguenza delle ustioni, come vi dicevo, alcune settimane dopo. Va detto però che al momento dell'incendio Vittorio aveva oltre due anni e mezzo, un pochettino tanti per sostituirlo e fare in modo che nessuno, ma nessuno, si accorgesse della differenza tra il bimbo morto e il bimbo sostituito. Inoltre Carlo Alberto aveva una moralità veramente incompatibile con un atto del genere, conoscendo la sua biografia, conoscendo il personaggio. Maria Teresa, in alcune lettere successive, peraltro si lamenterà continuamente di questo bambino e nelle lettere proprio scriverà che una domanda che si poneva è da dove potesse essere venuto fuori questo bambino così scatenato, così fuori dalle regole. E ci si domanderebbe perché Maria Teresa si pone questa domanda. Se avesse saputo che effettivamente il bambino non era più il suo, probabilmente questo tipo di domanda non se lo sarebbe posto. Inoltre c'è anche da dire che il perché la Teresa si è morta e il bimbo no va anche legato al fatto che dovete tenere presente che nella metà dell'Ottocento l'utilizzo degli abiti, dei sottoabiti, delle gonne e delle crinoline faceva sì che gli abiti delle donne fossero veramente una stratificazione di indumenti dove era veramente difficile toglierseli. Quindi in caso di incendio degli abiti era veramente molto molto complesso strapparsi di dosso gli abiti come potremmo fare adesso. Quindi il fatto che Teresa possa essere morta trasformata in una torcia umana pensando a come erano abbigliati alla metà dell'Ottocento è assolutamente plausibile. I pro è che Vittorio Emanuele, come vi dicevo, non somigliava per nulla ai genitori o comunque apparentemente somigliava molto poco. Avrà per tutta la vita questo comportamento dai modi molto molto popolani e poco poco regali. Carlo Alberto avrà sempre un particolare distacco nei suoi confronti, se non quasi un gelo totalmente diverso rispetto al secondo genito Ferdinando che invece tra parentesi assomigliava moltissimo ai suoi genitori sia per fisico e anche per comportamento. Inoltre un dettaglio è che fra il 9 e il 14 ottobre del 1822 cioè poco dopo questo grave incidente si sarebbe tenuto un importante congresso il congresso di Verona dove tra le tante cose si sarebbe discusso della proposta di Carlo Felice lui voleva rifiutare, ricusare Carlo Alberto come futuro erede al trono e chiedeva che il titolo andasse direttamente al figlio. Ecco, ora pensate se quel figlio in realtà in quei giorni fosse morto che cosa sarebbe potuto accadere? E quindi questo è un fattore che potrebbe pesare su questa potenziale scelta. Inoltre le voci sulla storia del figlio del macellaio sono in realtà partite non da uno qualsiasi ma pare che sia stato Massimo D'Azelio a parlarne negli anni successivi e Massimo D'Azelio non era avvezzo a mettere in giro voci o fake news senza fondamento non sembrerebbe un qualche cosa che avrebbe molto a che fare con il carattere di Massimo D'Azelio. Inoltre a Firenze ci sono delle immagini riferite a un discendente del famoso macellaio dove la somiglianza tra Vittorio Emanuele II e questo discendente è stupefacente così almeno ne dicono, io non ho mai avuto modo di poterlo vedere. Questi sono i fatti, diciamo che qualche dato a favore della leggenda c'è tendenzialmente però vogliamo continuare a credere che è un'affermazione tutto sommato priva di fondamento ma ci sembrava, visto la storia, carino sottolinearla o rivederla insieme. Ecco intanto Vittorio Emanuele II va detto che cresce negli anni e quindi lo ritroviamo a circa otto anni d'età, otto, nove anni e a questo punto gli vengono assegnati una serie di precettori. La sua vita trascorrerà al castello di Moncaglieri. Vi ho voluto portare un paio di immagini per farvi vedere due precettori padre Charvaz e soprattutto questo personaggio a destra il generale Enrico Morozzo della Rocca. È un personaggio estremamente interessante perché Enrico Morozzo della Rocca farà un carrerone stupefacente e onestamente guardando la sua biografia pur essendo un gran bravo uomo non è che come generale fosse un granché ma dato che in pratica è diventato lo scudiero di Vittorio Emanuele II fin da quando egli aveva dieci anni e poi dopo che smetterà di essere precettore farà praticamente una carriera sempre a fianco di Vittorio Emanuele II ecco diciamo che la meritocrazia posso dirvi che già allora spesso non la trovavamo e poi di Enrico Morozzo della Rocca diremo ancora alcune cose quando vedremo da vicino anche il Vittorio Emanuele II uomo perché tutto sommato ritornerà questa figura di Enrico Morozzo. Ecco vi ho voluto riportare la giornata tipica di Vittorio Emanuele II cioè due bambini così come erano educati nel 1835 ecco la giornata tipica di Vittorio Emanuele e di Ferdinando si svolgeva così sveglia alle 5 e mezza del mattino pulizia personale dalle 6 alle 8 studiavano 8 o 9 colazione un attimo di ricredizione un'ora di quitazione 10-11 disegno calligrafia dalle 11 alle 13 ancora studio un'ora di pranzo mezz'oretta di scherma poi un attimo di passeggiata di distacco fino alle 16 dalle 16 alle 17 ginnastica di nuovo 17-19-30 studio mezz'oretta per la cena mezz'oretta per la ricreazione mezz'ora di preghiera e poi dritti a dormire alle 9 questo indissolubilmente praticamente 7 giorni su 7 alcuni giudizi che vi ho voluto riportare che sono stati estrapolati dai vari precettori che Vittorio Emanuele II e Ferdinando ovviamente Ferdinando invece era il fratello bravo e quello che aveva tutti i voti perfetti Vittorio Emanuele invece non eccelleva assolutamente e qui vi ho portato praticamente alcuni commenti che sono estrapolati dai documenti ufficiali lavora con sommanoia e indolenza è sempre addormentato lavora poco o nulla agli esami che pur faceva e in qualche maniera superava venivano fuori questi commenti può dirsi che il principe agli esami non ha risposto nulla di nulla quindi questo era Vittorio Emanuele II come studente in effetti non sarà mai particolarmente avvezzo ai libri ma sarà chiaramente molto portato a tutto ciò che è pratico la caccia, il cavalcare, il combattimento la vita militare ma i libri non saranno mai il suo forte passano gli anni come tutti si deve sposare quindi il 12 aprile 1842 ho voluto mettere queste due fotografie una piuttosto sgranata ma molto giovane di Vittorio Emanuele II e l'altra molto bella invece vediamo la moglie di Vittorio Emanuele II Maria Adelaide Asburgo Lorena peraltro sua cugina si sposano il 12 aprile 1842 a Torino da questo matrimonio nasceranno cinque figli e vi ho voluto riportare le loro immagini al centro quello che sarà il futuro erede Umberto I e poi la prima di tutte nata nel 1843 Maria Clotilde di Savoia segue Umberto nel 1844 a seguire ancora un anno dopo Amedeo di Savoia principe Amedeo poi nel 1846 il più sfortunato Odone nato malato rachitico e che morirà nel 1866 a soli vent'anni e l'ultima Maria Pia nata nel 1847 che sarà regina del Portogallo questi sono i figli ufficiali tutti da Maria Adelaide questa è un po' la sua storia strettamente giovanile vogliamo dare un'occhiata adesso Vittorio Emanuele II il re il politico ecco la storia patria che cosa ci racconta di lui intanto ci interessa Vittorio Emanuele II ho voluto mettere una slide anche provocatrice una zucca vuota e un opportunista forse quindi così dicono di lui invece infatti ci dicono che ciò che lui ha scelto o ha fatto nella sua storia politica al momento opportuno sono state scelte corrette quindi intanto la sua storia personale passa attraverso un momento drammatico il 24 marzo 1849 sale al trono dopo la sconfitta di Novara la sconfitta di Novara sancisce la chiusura della prima guerra di indipendenza la sconfitta dell'esercito sardo da parte dell'Austria e Carlo Alberto che a questo punto è costretto ad abdicare quindi il 24 marzo 1849 esattamente il giorno stesso della sconfitta Carlo Alberto decide di firmare l'abdicazione in realtà si dimenticherà persino anche di firmarla dovranno correre dietro per fargliela firmare e Vittorio Emanuele II si ritrova all'improvviso re di Sardegna in mezzo a un bel guaio deve trattare e gestire la pace con Radezchi Radezchi è il generale che tutti conosciamo se non altro per la famosa marcia che ha sconfitto Carlo Alberto e quindi Vittorio Emanuele II va da Radezchi che aperta tonda fortunatamente era stato suo testimone di nozze e quindi ha una sua vicinanza con Vittorio Emanuele II lo conosce fin da quando era ragazzo e ha un debole per lui e va a trattare con lui i termini della pace una pace che deve essere durissima perché il Piemonte in quel momento è in parte occupato dagli austriaci e quindi bisogna trattare da sconfitti e pur tuttavia Vittorio Emanuele II riesce a trattare una pace onorevole dove le cifre di rimborso per i danni di guerra vengono definite in una cifra congrua e la parte del territorio piemontese che rimane occupata da parte degli austriaci è minima e pur tuttavia quando Vittorio Emanuele II torna a Torino ritrova un Parlamento soprattutto un Parlamento dell'ala di sinistra che lo accusa di aver accettato un armistizio disonorevole Vittorio Emanuele II fa una prima scelta importante ecco perché vi dico quelle scelte che vanno tenute presenti lui chiama Massimo D'Azelio e Massimo D'Azelio comincia a lavorare per cercare di far ratificare questo trattato di pace che peraltro le Camere del Parlamento si rifiutano di firmare ed ecco perché arriviamo al famoso proclama di Moncaglieri del 20 novembre del 1849 è un proclama dove praticamente Vittorio Emanuele II ha il coraggio di mettere con le spalle al muro il Parlamento dicendo in poche parole le elezioni che sarebbero avvenute da lì a pochi giorni non avessero portato in Parlamento una maggioranza in grado di accettare questo armistizio il Re sarebbe stato costretto a ritirare lo statuto ecco questo è il secondo passaggio importante da più parti ci si immaginava che Vittorio Emanuele II avrebbe rinunciato a quello statuto che suo padre aveva firmato il 4 marzo del 1848 c'erano tutti gli estremi per abbandonarlo Vittorio Emanuele II non lo abbandonò quindi confermò questo statuto contro tutti se vogliamo o perché decise non lasciando perdere il perché il percome comunque lo confermò e il 20 novembre la sua minaccia fu quella se non verrà eletta una maggioranza in grado di accettare quell'armistizio mi vedrò costretto a degli atti che prevedevano in pratica il ritiro dello statuto e il ritorno a una monarchia non più di tipo costituzionale la cosa ebbe un effetto positivo perché le elezioni portarono in Parlamento una maggioranza che approvò fortunatamente il trattato di pace che chiamiamo pace di Vignale e questo è un primo passaggio veramente importante il passo successivo che ci fa riconoscere bene anche come figura politica Vittorio Emanuele sono le leggi del 1850 cioè la legge Siccardi che tutti più o meno conosciamo la legge Siccardi che cos'era è una legge presentata da un Parlamento sempre schierato particolarmente a sinistra e con un massimo d'azzelio particolarmente anticlericale sono delle leggi che abolivano tutta una serie di agevolazioni particolari e se volete odiose a favore del clero in particolare il foro ecclesiastico il foro ecclesiastico non era nient'altro che un foro dove venivano giudicate le figure ecclesiastiche e veniva quindi di fatto evitato che le figure clericali venissero giudicate come tutti da un tribunale civile questa era chiaramente una irregolarità una ingiustizia che le leggi siccardi volevano abolire ovviamente in questo va detto che Vittorio Emanuele II è una figura come tutta Casa Savoia particolarmente cattolica Casa Savoia così come Vittorio Emanuele II era un particolarmente credente quindi mettere in discussione queste leggi voleva dire mettersi in diatriba con il Papa con Pio IX a Roma quindi non era una cosa da poco eppure nonostante tutto Vittorio Emanuele II pressato dalla famiglia per non ratificare queste leggi le leggi furono approvate dal Parlamento ma come sempre dovevano essere anche sanzionate dal Re e il Re aveva un grosso problema perché in famiglia c'era una presenza di figure molto legata al mondo cattolico e non da poco cioè in particolare sua madre e sua moglie e per questo vi voglio far vedere una lettera che lui ricevette scritta da sua madre dove praticamente gli faceva tutte le pressioni possibili per convincerlo a non sanzionare questa legge quindi caro amato Vittorio tu sai quanto ti amo quanto feci nella tua infanzia per te quante notti vegliai presso del tuo letto quante pene quante angustie e insomma tutta una serie di pressioni per arrivare a dirgli ho saputo che la legge Siccardi fu votata ieri sera al senato e ora ti chiederanno che tu la sanzioni e qui parte anche tutta una serie di minacce larvate perché gli dice ovviamente pensa qual sarebbe il tuo dolore se il signore facesse ammalare gravamente anche e si prendesse la tua cara Dele che sarebbe la moglie che tu con tanta ragione tanto ami e la tua chechina che era Maria Clotide la primogenita o il tuo Beto Umberto il figlio maschio insomma minacce tra virgolette che fanno abbastanza preoccupare e poi conclude dicendo anche che adempio diceva Maria Teresa all'ultimo desiderio volontà del tuo povero padre che scrivendomi da Oporto mi diceva che io dessi sempre buoni consigli specialmente religiosi ai nostri figli quindi non solo l'eventuale minacce ai figli ma anche far pesare che il padre Carlo Alberto non avrebbe certo apprezzato quello che lui stava facendo ebbene nonostante tutto questo Vittorio Emanuele II sanzionerà questa legge che passerà e quindi la legge Siccardi viene approvata legge Siccardi che produce se volete ulteriormente dei dolori non da poco perché perché nel 1850 viene sanzionata e alcuni mesi dopo muore una figura importante del governo e gli viene negato dato che nel frattempo il Papa aveva provveduto a scomunicare tutti quelli del governo che avevano firmato e sanzionato questa legge gli verrà negato il viatico cioè in pratica l'estremo unzione in punto di morte e morirà in questa terribile condizione questa cosa che avviene nell'agosto del 50 produce una reazione terribile anche spinta da Cavour e da altre figure ovviamente anticlericali per cui il termine Emanuele II approverà l'incarcerazione del vescovo dell'arcivescovo di Torino l'arcivescovo Franzoni che verrà incarcerato nella cittadella e conseguentemente poi cacciato dal regno così come verrà cacciato dal regno non solo il frate che non aveva offerto l'estremo unzione a questo personaggio si chiama padre Pittavino questo padre ma verrà cacciato dal regno tutto il suo ordine l'ordine dei serviti che verranno cacciati dal regno di Sardegna quindi terribile reazione anche questa assolutamente approvata da Vittorio Emanuele II quindi un re che al momento pertuno nonostante il terrore o comunque il timore del papa non gli mancherà mai il coraggio per prendere delle decisioni giuste altro fattore importante che voglio ragionare insieme a voi Vittorio Emanuele II è stato fortemente aiutato da grandi personaggi che sono stati vicini a lui vi ho detto Massimo D'Azeglio questa grandissima figura se volete poco apprezzata ma veramente un torinese eccezionale una figura politica estremamente interessante sarà lui dal 49 al 52 capo del governo ma dopo di lui verrà il grande tessitore Cavour e Cavour dal 52 al 61 lo troveremo nei momenti più importanti della storia nazionale quindi potremmo pensare che Vittorio Emanuele II ha avuto la grande fortuna di avere questi personaggi quindi lui ne ha usufruito non è così perché comunque li ha scelti perché il marchese da Zeglio diventa capo del governo chiamato da Vittorio Emanuele II e Cavour che vedremo tra poco era un personaggino tutt'altro che facile sarà comunque richiamato continuamente da Vittorio Emanuele II che nei momenti di discussione lo caccerà ma poco dopo lo richiamerà e anche questo è un fattore importante nel 1855 già non pago anche della legge Siccardi si passa alla legge Rattazzi la quale legge Rattazzi prevede l'abolizione di tutti gli ordini religiosi non produttivi o non dediti all'aiuto misericordioso c'erano tantissimi ordini religiosi che non erano impegnati nell'aiuto diretto delle persone bisognose e quindi ordini che però avevano delle ricchezze che si decise di abolire per poter incamerare i loro beni e poter quindi arrivare ad avere abbastanza danari per pagare le pensioni ai vari parroci sparpagliati sul territorio questa legge passa e viene chiamata Rattazzi perché Rattazzi è l'esponente della sinistra del Parlamento quindi una sinistra anticlericale passa e passa perché Cavour in quel momento ha bisogno dell'appoggio della sinistra per potersi far approvare la guerra di Crimea la guerra di Crimea è un momento importante noi andiamo a fare una guerra in Crimea per cercare di portare politicamente l'attenzione dell'Europa sulle condizioni dell'Italia l'Italia occupata dall'Austria noi vogliamo accendere i riflettori sulla situazione italiana per fare questo c'è bisogno di partecipare fuori dal nostro regno quindi Cavour decide di portare l'attenzione dell'Europa sull'Italia offrendosi come alleato con l'Inghilterra e con la Francia per andare a combattere insieme alla Turchia contro la Russia la guerra di Crimea è una guerra che vede Russia e Turchia contrapposti ma la Turchia era alleata con l'Inghilterra e con la Francia e quindi anche noi vogliamo andare lì per andare lì ci vuole approvazione del Parlamento Parlamento che non vuole approvare perché è una guerra di cui non si ricapisce il senso ovviamente Cavour ce l'ha il senso di questa guerra però per andare bisogna avere l'approvazione e lui riesce a strappare questa approvazione dando in cambio alla sinistra queste leggi vengono approvate di nuovo dal re che capisce l'esigenza di voler andare fondamentalmente di voler andare a fare la guerra in Crimea e quindi paga questo conto ma è un conto decisamente salato perché al di là delle scomuniche che arriveranno da Roma abbiamo anche Don Bosco che da Torino decide di scrivere continuamente delle lettere al Vittorio Emanuele perché perché lui era notoriamente un veggente faceva questi sogni che spesso erano premonitori e in alcuni sogni lui riporta a Vittorio Emanuele che ha sognato gravi lutti al Palazzo Reale ebbene dopo questi messaggi ricevuti da Don Bosco il 12 gennaio muore Maria Teresa cioè la mamma del re e il 20 gennaio da poco finito il funerale che è avvenuto il 16 gennaio che muore il 20 gennaio muore Maria De Laide a Sburgo Lorena che è la moglie del re di Vittorio Emanuele II e non è ancora finito questo che il 10 febbraio muore il fratello Ferdinando che purtroppo era malato probabilmente di Tisi quindi una triade di morti impressionante e nonostante questo tenete conto che Vittorio Emanuele II era credente rimarrà sulla sua posizione e la legge verrà ratificata quindi un re che nonostante tutto questo riesce a tenere il punto quindi non molla la situazione e un'altra cosa che voglio farvi notare perché diciamo sempre che Cavour colui che ha tessuto tutto quello che c'era da fare ed è lui che ci ha condotti alla seconda guerra di indipendenza del 1859 è verissimo è verissimo però nel 1959 quando sembrava che Napoleone III avesse cambiato idea e l'alleanza contro l'Austria a questo punto dismessa e senza l'alleanza dei francesi non si poteva fare la guerra e senza la guerra tutto il progetto di unità nazionale andava a carte 48 Cavour di fronte alla lettera di Napoleone III che diceva no 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 dobbiamo fare un congresso e quindi la guerra lasciamola da parte ecco Cavour ebbe una grande crisi tant'è che arrivò anche a vaticinare si dice il suicidio ebbene in quelle ore e in quei giorni Vittorio Emanuele vedremo insieme in una lettera che gli scriverà Vittorio Emanuele nonostante tutto nel suo pragmatismo nella sua semplicità lo conforterà dicendogli caro Cavour non bisogna mai disperare e infatti e infatti le cose andranno diversamente non abbiamo tempo di raccontarle ma resta il fatto che la guerra invece si farà con Napoleone III la seconda guerra di indipendenza così importante che ci porterà poi all'unità nazionale un altro fattore importante Cavour e Vittorio Emanuele ebbero dei litigi epocali e più volte Cavour si dimise dopo questi scontri spessi finite a male parole proprio a male parole l'unico termine che si può dire eppure Vittorio Emanuele II ebbe sempre la capacità di piegare il suo orgoglio alla superiorità politica intellettuale di Cavour e di richiamarlo al suo fianco Vittorio Emanuele II non sopportava assolutamente Cavour umanamente ne aveva le scatole piene ma eppure avrà sempre questa capacità di rendersi conto che senza di lui non se ne poteva fare a meno e quindi piegando totalmente il suo orgoglio lo richiamerà puntualmente per proseguire in quello che è stato il percorso risorgimentale dove Cavour non è mai uscito fino al giorno della sua morte e volevo portarvi degli appunti per dire quanto fosse perché richiamarlo voi direte vabbè sembra facile no avere Cavour non era affatto facile perché Cavour era anche questo Cavour intrigò perché Vittorio Emanuele II abbandonasse Rosa Vercellana e la vedremo Rosa Vercellana era l'amante di Vittorio Emanuele II una popolana volgarissima per Cavour era una vergogna che questa persona stesse vicino al re che invece di prendersi come amante una nobile donna si era presa la figlia di un tamburo maggiore e dato che Vittorio Emanuele II non basta parlava anche di sposarla capite che Cavour le inventava tutte intrigava tutto si inventava anche delle false prove per convincere Vittorio Emanuele II ad abbandonarla e questo Vittorio Emanuele II pesava tantissimo Cavour la notte del 9 luglio 1859 è la notte in cui viene a sapere che Vittorio Emanuele II e soprattutto Napoleone III hanno deciso un armistizio con gli austriaci dopo aver sconfitto gli austriaci a San Martino e Solferino Napoleone III ne abbasta della guerra e decide di accordarsi con Francesco Giuseppe l'imperatore d'Austria Vittorio Emanuele II è costretto ad accettare questo armistizio ma non dice nulla a Cavour finché non si arriva a pochi giorni dall'armistizio che verrà firmato l'11 luglio Cavour venendolo a sapere sconvolto per la notizia completamente fuori di sé gli griderà letteralmente in faccia qui io sono il re cioè una cosa sconvolgente veramente fuori da ogni logica pensate Vittorio Emanuele II che si sente dire questa cosa e poi ancora non basta proseguendo nel litigio Cavour gli griderà i ministri devono capire quando è il momento di dimettersi e i re dovrebbero invece capire quando è il momento di abdicare ecco frasi veramente fuori da ogni ogni logica un'altra problematica Cavour fece nominare presidente della camera dei deputati Urbano Rattazzi che era rappresentante della sinistra quando fu eletto con l'appoggio di Cavour non fu avvisato il re di questa scelta e il re era particolarmente ostile in quei giorni a Rattazzi perché lo considerava un avvocattuccio di sinistra di quelli da tenere lontano e questa scelta anche fu fatta alle spalle del re e quindi potete capire che tutta una serie di cose che non rendevano facile il rapporto tra Cavour e Vittorio Emanuele II e pur tuttavia Vittorio Emanuele II alla fine richiamò sempre Cavour un altro punto che voglio farvi notare e entriamo in un'altra storia importante siamo diciamo nel 1860 parliamo dell'impresa più grande di tutti l'impresa dei 1000 quella che vede Garibaldi a comando di questi 1000 e passa volenterosi che andarono a conquistare la Sicilia ecco però ecco per noi Mazzini e Garibaldi sono due padri della patria ma facciamo uno sforzo e vediamoli politicamente Mazzini e Garibaldi oltre che due padri della patria allora erano fondamentalmente due pericolosi rivoluzionari di sinistra e in particolare per Mazzini con in testa idee repubblicane cioè Mazzini era un personaggio che diceva che ci voleva la Repubblica e Garibaldi in gioventù è stato allineato a queste idee negli ultimi anni soprattutto quando si arriva all'impresa dei 1000 ha dismesso questo approccio però stiamo sempre parlando di un personaggio che è poco di destra quindi non è ben visto assolutamente da Cavour l'impresa dei 1000 viene osteggiata totalmente da Cavour perché Cavour ha paura che nel momento in cui questi 1000 arriveranno in Sicilia invece di seguire una politica di unità nazionale gestita dalla monarchia e da Cavour ci si potrebbe trovare in una Repubblica del Sud di stampo socialista e quindi ecco che Cavour teme fortemente quindi fa di tutto perché questa impresa non avvenga a differenza invece di Vittorio Emanuele II che invece questo rischio lo accetta perché Vittorio Emanuele II era in contatto con Garibaldi e di fatto è lui che finanzia quest'impresa perché altrimenti non ci sarebbe storia per dirvi qualche dato importante le due navi Piemonte e Lombardo con cui i 1000 partirono da quarto ufficialmente erano state represe con l'atto di pirateria dai Garibaldini ma in realtà risultano acquistate a tutti gli effetti dall'armatore Rubattino da dei prestanome di Casa Savoia quindi è Casa Savoia che ha preso queste navi è Casa Savoia che ha predisposto delle armi poi si è rimostrato essere comunque non adeguata all'avventura i soldi i finanziamenti arrivano da Vittorio Emanuele II che non dovrà mai apparire proprio perché è un doppio gioco si gioca su due livelli si gioca su un'azione rivoluzionaria che potete capire non può essere appoggiato da un re come Vittorio Emanuele II che ne deve rispondere alle altre corti di Europa gli dovrebbero dire ma cosa stai facendo ti metti con il rivoluzionario eppure mentre Cavur fa di tutto perché questo non avvenga Vittorio Emanuele II ci vede lungo e decide quindi di appoggiarlo Garibaldi e Garibaldi avrà questa incredibile avventura grazie a Vittorio Emanuele II parte tutto da lì un altro dettaglio che vi voglio dire all'arrivo a Marsala delle due navi a largo di Marsala si troveranno due navi da guerra inglesi navi da guerra inglesi che coincidenza si porranno tra le navi le due imbarcazioni che non erano navi da guerra e le navi borboniche che stavano aspettando le due navi piene di Garibaldini e la presenza di queste navi inglesi non permetteranno alle navi borboniche di poter usare i cannoni coincidenza? io dovete pensare proprio che no cioè che non è una coincidenza perché la Sicilia aveva una presenza di imprenditori industriali inglesi fortissima e quindi una pace politica una tranquillità politica in Sicilia era fortemente richiesta dagli industriali e gli imprenditori inglesi quindi quelle due navi vi assicuro non si trovavano lì per caso come vi dicevo Cavour fu assolutamente contrario all'impresa temendo appunto una sollevazione di tipo socialista e Vittorio Emanuele invece ne fu consapevole e giocò questa carta anche cinica perché il suo rapporto con Garibaldi fu un rapporto sì di amicizia militare ma poi alla fine diciamo onestamente lo usò ampiamente quindi al momento opportuno non si fece molti scrupoli di non dico abbandonarlo ma quasi mentre Garibaldi fu veramente la figura dell'ingenuo che credeva fondamentalmente a questa avventura e si affidò mani e piedi a Vittorio Emanuele II che come vi ho detto fu abbastanza opportunista sul momento quindi questa è la storia politica quindi zucca vuota non direi c'è l'impressione che nei momenti giusti nei momenti importanti della storia politica nazionale Vittorio Emanuele II ha fatto le scelte giuste coincidenza non coincidenza fortuna non ha importanza questi sono i fatti Vittorio Emanuele però è stato anche un uomo e quindi se vogliamo vederlo come uomo ecco che c'è questo aspetto umano Vittorio Emanuele vogliamo scherzarci sopra il padre di tutti gli italiani era la battuta che girava perché ha avuto tantissime ma tantissime amanti e tra quelle che ha avuto qui abbiamo voluto riportare solo le immagini di quelle più note Rosa Vercellana detta la Bella Rosin e Laura Bon che era un'attrice di teatro Laura Bon viene conosciuta nel 1844 e lui la rivede nel 1848 la costringe a lasciare nel 48 la compagnia a cui lei recitava e in pratica lei rimane a Torino per alcuni anni verrà alloggiata in via San Massimo al 10 e ne viene assegnato un appartamento nel frattempo nel 1847 però Vittorio ha conosciuto Rosa Vercellana che tra parentesi va a solo 14 anni e già nel 1848 Rosa Vercellana mette al mondo la prima figlia quella che si chiamerà Vittoria Guerrieri nel 1851 altra figlia da Rosa Vercellana in questo caso figlio maschio che verrà chiamato Emanuele Guerrieri nel 1953 nasce una bambina anche quella chiamata Emanuela a Laura Bon che però poco dopo viene allontanata perché Laura Bon è un personaggio che non riesce a convivere con il carattere di Vittorio Emanuele II che è un carattere ovviamente libero non è possibile ingabbiarlo in nulla e quindi questi rapporti multipli di Vittorio Emanuele II esasperano Laura Bon che non è capace di stare al suo posto rende la vita impossibile a Vittorio Emanuele II che a quel punto decide di farla allontanare da Torino e peraltro il 20 gennaio del 1855 muore l'unica moglie ufficiale di Vittorio Emanuele II Maria Delaide e quindi lui rimane vedovo Rosa Vercellana aveva già preso possesso perché in realtà anche lì Vittorio Emanuele II ebbe un comportamento diciamo al limite estremo perché l'aveva conosciuto nel 1947 nel 1948 hanno avuto una figlia ma già nel 50 51 decide di alloggiarla a Stupinigi residenza di caccia dove lui andava spesso ma non solo poi da lì verrà spostata a Moncaglieri nel giardino annesso alla residenza privata dove anche abitava e passeggiava la povera Adelaide che peraltro sfortuna vuole che si incontrerà nei suoi passeggi con i figli vigli naturali figli fuori dal matrimonio che erano nati da con Rosa Vercellana e allora dopo questi incontri Adelaide chiederà in maniera molto intelligente furba di chiudere questa situazione la casetta verrà dismessa da parte di Rosa Vercellana che verrà spostata a Pollenzo e dopo Pollenzo però alcuni anni dopo la ritroveremo alla reggia di Lamandria dove ancora oggi possiamo vedere la sua presenza e lì a Lamandria oramai morta Maria Adelaide diventerà diciamo la vera casa di famiglia di Rosa Vercellana e di Vittorio Emanuele nella privacy di questa grande tenuta lì si svolgerà la loro come dire storia personale verrà sposata a livello morganatico nel 1867 con Vittorio in punto di morte in realtà questo avverrà perché Vittorio stava per morire per un'ennesima polmonite e stando oramai in punto di morte decide di sposarla a livello morganatico che vuol dire che non aveva diritto ad alcun titolo reale ma semplicemente sua moglie poi in realtà Vittorio Emanuele si riprende da questa polmonite non muore e il matrimonio civile verrà invece poi ufficialmente sancito nell'ottobre del 1777 e peraltro Vittorio Emanuele secondo muore nel gennaio del 1878 quindi pochi mesi dopo quindi non c'è niente di meglio che commentare un personaggio leggendo i giudizi del tempo che forse sono quelli che ci danno anche un'idea ecco i giudizi del tempo su Vittorio Emanuele secondo ve ne ho portati qualcuno perché sono interessanti allora intanto Carlo Marocchetti essendo uno scultore che sapeva anche avere un occhio per le somaticità dei personaggi così commenta Vittorio Emanuele secondo suo maestà è in sé qualcosa di selvaggio e di pittoresco non manca di grandezza e fa pensare a un re uno a un capo barbarico ecco questo commento piuttosto crudo lo si ritrova nel 1855 sempre da Londra per motivi diversi da parte di Charles Greville che è un diarista della corte d'inghilterra e fa questo commento perché nel 1855 Vittorio Emanuele secondo si è recato a Londra per un tour politico e conoscendolo commenta suo maestà ha un aspetto che incute timore è un uomo corpulento di taglia atletica dalle maniere brusche non raffinato nella conversazione molto disinvolto ed eccentrico il tipo più depravato e dissoluto del mondo questo commento di Charles Greville proseguendo alcuni altri commenti che vi voglio riportare e questo è interessante perché il commento che ci viene invece parlando del carattere non della somaticità di Vittorio Emanuele II abbiamo Enrico Morozzo della Rocca Enrico Morozzo della Rocca vi ho detto è stato il primo precettore di Vittorio Emanuele II è poi diventato suo scudiero comandante di stato maggiore insomma ha fatto una carriera eccezionale sotto l'ombra di Vittorio Emanuele II personalmente immeritata figlia solo diciamo di questa sua amicizia Enrico Morozzo della Rocca così commenta nelle sue memorie il re e dice quantunque non fosse superbo né altezzoso ed anzi piuttosto familiare con le persone del suo servizio si mostrava gelosissimo della sua dignità personale e principesca e con nessun uomo l'avrebbe mai compromesso quindi sì amico ma sempre con un minimo di distanza con le donne peraltro non credeva mai di abbassarsi bastava che fosse giovane bella piacente non facesse la ritrosa e anche se popolana o contadina per il momento egli se ne invaghiva perdutamente ecco questa carnalità di Vittorio Emanuele II questa continua caccia alla figura femminile mi permette di passare al commento di Lord Hudson che era ambasciatore di Inghilterra a Torino nel 1953 badate bene quello che ci dice Lord Hudson il re pur in mezzo ai suoi innumerevoli amori quindi ne va già tanti è sempre fedele alla Rosina la famosa Rosa Vercellana una donna alta e grossa che parla in dialetto piemontese che è il più orribile gergo che esista nella cristianità è anche fuori di essa però badate bene cosa dice adesso Lord Hudson l'altra rivale della Rosina è la contessa della Rocca consorte dell'omonimo generale quindi Enrico Morosso della Rocca ha fatto un carierone ma pietale è morta per Vittorio Emanuele II quindi anche la moglie di Enrico Morosso della Rocca è andata a finire nelle fauci di Vittorio Emanuele II voglio inserirmi invece un commento che mi piace molto fatto dalla Regina Vittoria la Regina Vittoria tenne un diario in questo diario durante la visita che Vittorio Emanuele II fece a Londra ce ne sono molti di commenti ma io ho voluto estrarne uno che mi è piaciuto molto lei commenta è un uomo rozzo balla come un orso parla in modo sconveniente ma se entrasse il drago sono sicura che tutti fucirebbero tranne lui sguainerebbe la spada e mi difenderebbe è un cavaliere medievale un soldato questo Savoia e qui secondo me c'è tutta l'essenza di Vittorio Emanuele II quindi coraggio da vendere soldato nel più profondo del suo io però con i metodi che la Regina Vittoria aveva ben percepito alcuni estratti che voglio commentare dalle sue lettere anche queste ci danno comunque delle informazioni importanti perché? perché sono parole sue e quindi il personaggio che viene fuori non ciò che viene raccontato dagli storiografi o da chi lo vuole commentare Vittorio Emanuele II in una lettera a Cavour del 18 aprile 1859 che ha appena ricevuto brutta notizia da Napoleone III che come vi dicevo ha cambiato idea non vuole più darci la sua alleanza e Vittorio Emanuele II scrive a Cavour testè caro Conte parmi che siamo a mal partito quel cane di imperatore si burla delle nostre figure vi è qualche cosa purtroppo che me lo dice da lungo tempo coraggio però non è ancora terminata e talvolta vi arriva la fortuna mentre uno se l'aspetta di meno con tutto ciò l'imperatore è una carogna ecco lapidario in quello che deve dire Vittorio Emanuele II invece lo troviamo in un'altra lettera a Massimo D'Azeglio il 20 aprile del 1852 è il suo capo del governo gli ha mandato una lettera perché Vittorio Emanuele II ha il brutto vizio di scrivere le lettere personali al Papa e in queste lettere in pratica contraddice ciò che fa il ministro degli esteri che è il povero D'Azeglio il quale D'Azeglio gli ha scritto una lettera dicendo ma magari mostra maestà sarebbe il caso che prima di scrivere certe cose ne parliamo e lui il buon Vittorio gli risponde in questa lettera so cosa mi fo e a dirle il vero non sono molto amatore di consigli quando ne avrò bisogno glieli chiederò e con tutto ciò non mi voglia male ciao Massimo e va aggiunto che Massimo D'Azeglio che non era tipo da portarsi a casa un commento di questo tipo proprio perché era Massimo D'Azeglio gli risponderà siccome io non venni né rimasi nell'ufficio di suo consigliere se non per preciso comanda della maestra vostra pregarla volermi indicare a quale persona intende che io rimetta il portafoglio degli esteri cioè della serie se la metti così stammi bene arrivederci va detto vi dico che Vittorio Emanuele II manderà un'altra lettera di scuse e si eviterà le dimissioni di Massimo D'Azeglio e poi un'altra lettera molto interessante che Vittorio Emanuele II scriverà a Cavour nei primi giorni di maggio del 1859 dalla fronte lui è in guerra siamo presente nel pieno della guerra di indipendenza Cavour ha timore che Vittorio Emanuele II combini i pasticci e gli manda continuamente lettere consigli consigli e lettere e a un certo punto Vittorio Emanuele II ne ha le scatole piene e gli scrive signor Conte nell'istessa maniera che lei mi scrive con franchezza con franchezza le risponderò dal sunto di quel che mi dice che devo essere circondato da tanti geni che mi impediscono di fare delle bestialità pare che lei mi consideri un grande asino nel mio mestiere se lei mi parla ancora una volta così vedrà cosa farò manderò via tutti intorno a me quelli che vi sono e mi circonderò di meno capace ancora e farò vedere io se non sono capace a fare il mestiere senza tanti consiglieri ecco questo è Vittorio Emanuele II che reagisce nella sua caratterialità più piena bene questo è quanto che ho voluto raccontarvi speriamo di aver dato un'immagine di Vittorio Emanuele II un pochettino vista dietro le quinte ma rispettosa perché stiamo parlando di un padre della patria di un personaggio che comunque ha avuto i suoi bei perché e quindi ci ha fatto piacere raccontarlo in questo senso io con questo vi ringrazio come sempre spero di riavervi alla prossima occasione grazie a tutti Grazie.